Allora, si dice che esistono tanti amori quanti cuori ci siano, cioè quante persone ci siano. È difficile e forse impossibile arrivare a una definizione univoca dell'amore proprio perché ognuno ha una propria lettura, un proprio modo di vedere la cosa. Chi poi è nella mia posizione professionale, ascolta, raccoglie le storie intime delle persone che sono fatte di grandi amori, di nessun amore, di amori per le persone, di amori per gli animali, per gli oggetti, per gli hobby. Ci sono amori poi eterosessuali, omosessuali, bisex, poi quelli bizzari, sadomasochistici e altri in effetti abbastanza perversi. Ancora gli amori per una persona sola, quindi monogamici, oppure le coppie aperte, gli scambisti, coloro che hanno amanti con i quali hanno intessuto relazioni da anni. Insomma, si tratta di un campionario senza una cornice precisa che, ripeto, rende davvero difficile dire non solo cosa sia normale, ma in fondo cosa sia amore. Come facciamo a sapere, consentitemi il volo pindarico, che Dante amava Beatrice? Cioè, come facciamo a sapere che l'amava davvero? Beh, perché lui ce l'ha fatto sapere. Cioè, ovvero non si è limitato ad esprimere un sentimento, a provarlo, ma ha fatto un qualcosa che ha dimostrato che questo sentimento fosse, era concreto. Cosa voglio dire con questo parallelismo, forse un po' poco brillante? Voglio dire che la misura dell'amore, forse l'unica che conta davvero, non sta in quello che noi proviamo, quello che noi sentiamo per qualcuno, ma in cosa materialmente facciamo per quella persona. Ecco che allora abbiamo rapporti d'amore senza che venga detto ti amo, ed altri rapporti pieni di ti amo, verbalmente espressi, e pieni di batticuori pure, ma con ben poco amore nel concreto. Rapporti per i quali, sotto la definizione del è perché ti amo, abbiamo gelosia oppressiva, svilimento, manipolazione, percosse e morte. Rapporti nei quali non si fanno le due cose fondamentali, avere cura di ed essere un valore aggiunto per, e gira che ti rigira, i fatti sono sempre superiori alle parole. Perciò, quello che fai, non quello che senti, quello che ti viene fatto e non quello che ti viene detto. Alla prossima!